Se volete un po' di clas o un bicchiere d'acqua? Aver bisogno di soldi e come avere un sasso intorno al collo? Ma lei non può pagare perché il suo fattore è fuori. Tipica logica deva per questo odio parlare con le donne è meglio accendere l'amice alla bomba e per suadere una donna mi è un crammo alle gambe vorrei gridare aiuto, aiuto! La signora è indisposta e non vuol vedere nessuno Che dici? Sei pazzo? Ma per dia che a chi credi parlare? Chiudi il bello Ma che bestia dove mi aver mandato il diavolo Ma per la rabbia che mi impade vorrei La donna, la casa, si dovrà restolta i miei tempi Ma io sto tremando Sveglio Ma io voglio Aiuto Ma io voglio Ma io voglio Sono più abituata al sonno della voce un'altra Oh, dirmi un'altra Io mi potrei dare a potertela a lungo portare La mia pace mi renda il denaro e me ne andrò Già mi dissi assai chiaramente che non potrai denaro al momento Questa è una questione di gioia Ed io pure assai chiaramente dissi che ne ho bisogno oggi stesso Attra un giorno fra due, attra due giorni o tre Se avrete la voce dovrò impiccarmi Ma che posso far se non ho quel denaro? E così non volete pagarmi, è vero? E allora io resto qui Significa che non mi avrete pagato Resterò seduto qui Proprio qui Resterò seduto qui Voi credete carattaci? 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 Non trovare così una signora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sì, è vero. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501